No, no, eravamo partiti molto bene con subito i primi due gol. Prima di tutto sono felice per questo primo gol con la media del Pescara. Però poi ci siamo un po' aperti, l'arbitro ha concesso dei rigori un po' dubbi. Sono stato anche io poco attento, non ho visto l'arrivo del terzino e mi ha anticipato. È una situazione un po' dubbia, però accetto la decisione dell'arbitro. Cerco di fare il meglio nell'allenamento e cerco di giocare il più possibile. Mi è arrivata la palla da destra, ho controllato, ho visto il portiere, ho provato il tiro e è andata dentro. Mi ha dato la palla, avevo l'uomo di spalle, sono uscito a stopparla e con una rovesciata ho cercato di far gol. Per fortuna è andata bene e sono contento per il gol. Noi siamo partiti bene, purtroppo queste partite ad agosto sappiamo come sono. Eravamo anche stanchi dai carichi settimanali. Affrontavamo anche una squadra forte di categoria superiore, quindi dobbiamo solamente continuare a lavorare e fare le nostre cose. Ancora è presto per dare risposte giuste, dobbiamo solamente lavorare e ancora tanto perché sono passate soltanto due settimane dall'inizio della stagione, quindi ancora è presto e dobbiamo solamente lavorare. C'è tanto rammarico, non abbiamo dormito tante notti, però secondo me quella rabbia, quella delusione di quel periodo ce la dobbiamo portare quest'anno per portare quel sogno che l'anno scorso ci è stato negato a portarlo a quest'anno. No, anzi è una cosa positiva, significa che non siamo ancora niente, dobbiamo lavorare e ci dobbiamo mettere sulla strada giusta per partire bene in campionato.